È il sindaco di Sansepolcro, comune della Valtiberina, nell'Aretino, a comunicare di avere messo un'ordinanza di disinfestazione a seguito della segnalazione di un caso di virus di chikungunia nel suo territorio. Il paziente, si legge nella nota, ha sviluppato solo lievi sintomi. Il virus appartiene al genere dell'alfavirus ed è trasmesso dalle zanzare del genere ADES che trasmettono anche la febbre dengue e zika. Le zanzare si infettano pungendo una persona malata nella fase acuta e poi diffondono la malattia, pungendone altre. Il primo cittadino obitu urgenze, Fabrizio Innocenti, ha così emesso una nuova ordinanza con la quale viene disposta la disinfestazione straordinaria nella zona dove il paziente ha soggiornato. Viene richiesto a tutti i residenti, amministratori di condominio, operatori commerciali o gestori di attività produttive la maggiore collaborazione possibile per permettere agli addetti di svolgere al meglio il loro servizio.